I politici ennesi continuano ad attaccare Caltanissetta sulla vicenda del policlinico diffuso. Stavolta tocca alla deputata di Forza Italia Lars, Luisa Lanteri, la quale dice «Sono stanca di leggere sulle cronache dei giornali che certi amministratori locali del Nisseno continuano a gettare ombre sul binomio policlinico e la cittadienna. Rispedisco al mittente certe dichiarazioni del Movimento 5 Stelle, secondo le quali la Regione avrebbe agito in maniera carbonara, bypassando Lars, in riferimento ad un protocollo d'intesa siglato tra l'assessorato alla salute e l'unicore di Enna. È ora di smetterla, dice ancora la deputata, con questa caccia alle streghe, perché si tratta di un atto amministrativo non politico, pertanto non è soggetto al transito in Parlamento. A chi sta facendo le barricate per invocare una nuova modalità strutturale, ovvero il concetto di policlinico diffuso, ricordo che trattasi di un caso mai visto in Italia che aprirebbe un precedente, al mio avviso, dice ancora la deputata, fallimentare. La scelta di Enna è invece strategica, perché è il rammento che unicore è il quarto polo accademico siciliano, riconosciuto a livello nazionale anche dal Presidente della Repubblica, il quale ha recentemente testato in prima persona l'efficienza delle strutture. Che dire poi dell'ospedale Umberto I, la cui garanzia non è seconda ad altri territori limitrofi, purtroppo deficitari. Sento tanto parlare, dice la deputata del presidio ospedaliero Sant'Elia di Caltanissetta, come di un essenziale supporto alla struttura sanitaria di Enna. Ebbene, a chi si riempie la bocca tirando in ballo il nosocomio nisseno, ricordo che è al centro di pungenti critiche, perché depauperato, altro che all'avanguardia. Piuttosto che speculare su Enna, denunciando la presenza di poteri forti o altre pagliacciate da circo, ritengo che sia più giusto, conclude Lanteri, che ognuno si attivi per garantire la crescita del proprio territorio, senza calpestare quello del vicino per meri fini propagandistici.